professione influencer di cosa si tratta stanno arrivando le prime regole regolamentazioni su questo campo un po ancora inesplorato ebbene è stata pubblicata alcuni giorni fa la notizia da parte dell'autority di vigilanza agicom garante per le comunicazioni che a breve sarà data una regolamentazione sono state avviate le consultazioni e quindi una volta conclusa la fase di consultazioni potranno essere dettate delle linee guida in sostanza gli influencer coloro che utilizzano il web magari anche la sottoscritta hanno bisogno di una regolamentazione e questo è quello che prevede lo stato e che di fatto può fare si tratta infatti di soggetti secondo le autority che creano producono diffondono al pubblico contenuti audio visivi sul quali naturalmente grava una certa responsabilità editoriale tramite queste piattaforme di conseguenza urge una regolamentazione e su questo siamo assolutamente d'accordo quello che dice in realtà ancora non è noto vi aggiorneremo sicuramente a breve è presumibile che ci saranno degli obblighi di iscrizioni o di comunicazione come ad esempio l'iscrizione al rock la disciplina in materia di opere pubbliche europee indipendenti e la scia comunicazione inizio attività e non sono addempimenti gravosi in realtà comunque questa consultazione è sicuramente molto interessante e il mercato ha bisogno certamente di una regolamentazione quindi vi invito a seguirci sempre sul nostro canale youtube per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale e per chi ancora non è iscritto di iscriversi immediatamente per chi ancora non è iscritto di iscriversi immediatamente